Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buongiorno, buonasera, siamo tornati per spiegarvi un po' la Vuelta 2022. Avevamo già fatto un video comparando Giro, Tour e Vuelta, c'erano sembrati il Giro e il Tour già un pochino più duri mesi fa. Ora andiamo a sviscerare tappa per tappa la Vuelta che si correrà tra un paio di settimane con partenza dall'Olanda. Vi do giusto due dati così indicativi, 21 tappe, 3.280,5 km di lunghezza, è molto più corto rispetto al Giro e al Tour, ad esempio, rispetto al Tour di una quarantina di chilometri, 50 anzi, rispetto al Giro di addirittura più di 100 km più corta, quindi non è una Vuelta lunghissima. Però le tappe alcune sono più lunghe del solito. Quindi rispetto al passato, al passato recente. Tappe per velocisti si va dalle 6 alle 7, poi vedremo nel dettaglio. Media montagna all'incirca 5, poi potrebbero essere qualcosina in più o meno, perché se la vanno a giocare con le tappe di montagna, dove non ci sono dei tapponi di montagna, comunque ne abbiamo selezionate 7, di cui comunque ci sono 8 arrivi in salita, quindi tra la media montagna e la montagna ci saranno 8 arrivi in salita, chilometri a crono, 54,3, però qua c'è da dire che c'è la crono squadra, che la andremo subito a vedere perché è la prima tappa. Quindi come chilometri è il giro che ha più chilometri a crono rispetto al Giro d'Italia e al Tour de France, però c'è la crono squadra che è molto diversa, chiaramente. Tante salite inedite, non si fanno i Pirenei, e questa comunque è una cosa importante, si va sopra 2.000 metri solo una volta con la Sierra Nevale, più, un'altra curiosità, 3.000 chilometri di trasferimento. Che non è poco, anche perché si parte dall'Olanda, si parte dall'Olanda e ci saranno 3 giorni di riposo, ovviamente, perché partendo da fuori è chiaramente un po' come il Giro e il Tour, sulla falsa riga, la solita cosa. Allora, andiamo a sviscerare il percorso. Tappa 1, Utrecht, Utrecht, crono squadre di 23,3 chilometri. È una crono squadra più o meno di media lunghezza. Siamo stati abituati anche a crono squadre un po' più lunghe in passato. C'è il ritorno della crono squadra, a volte sono state anche più corte. Nel 2019 era più corte, 13 chilometri, vinse la Stana e ci furono dei distacchi comunque. Ci furono diverse cadute anche in quella crono. Sì, te la giungo. È una crono che, secondo me, tra le squadre favorite, tra anche i papabili favoriti di questa volta, che ancora ci sono dei dubbi su chi prenderà parte alla volta o meno, potrebbero andare anche nell'ordine dei 20-30 secondi di distacco, forse anche un pochino di più, tra le squadre principali. Poi magari le ultime squadre arriveranno con due minuti, non lo so. Però, percorso piatto non è complicato, particolarmente complicato. Sarà un circuito abbastanza cittadino, quindi sicuramente a livello di curve bisognerà stare attenti. Seconda tappa, diciamo, si arriva sempre a Utrecht, 175,1 chilometri, c'è solo un Gran Premio a Montagna di terza categoria, all'incirca a metà percorso. Tappa per velocisti, Mullah. Sì, senza niente da dire. Senza se e senza ma. Andiamo alla tappa 3, arrivo a Breda, 193 chilometri, ultima tappa in Olanda, e anche qua piattume generale, direi. Si sconfina anche un pochino in Belgio, tra le altre cose, però, insomma... Come al solito, preannunciato il pericolo di possibile vento, poi probabilmente non succederà niente, perché, come è successo a Tour, doveva succedere un disastro, invece poi non è successo praticamente niente, no? E sarà comunque una delle poche tappe che si avvicina sui 200 chilometri, ricordiamo, 193 chilometri. Si arriva in Spagna, si torna in Spagna, quarta tappa, a La Guardia. È un arrivo in... Paesi baschi. Paesi baschi. Subito nei Paesi baschi. È una tappa che presenta comunque molti up and down, molti mangi e bevi, c'è un Gran Premio montante di seconda categoria, di terza, a poco più di 15 chilometri al traguardo, e poi c'è la strada che sale per gli ultimi 7-800 metri, insomma, abbastanza impegnativo l'arrivo. Non è un arrivo in salita, insomma, degno di nota, però è un arrivetto un po'... sembra un po' un arrivo del giro di Polonia. Vabbè, sono tutte tappe nervose, nel Paese baschi sono pericolose, perché saranno sicuramente piene di insidie. Poi, 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 andiamo alla quinta tappa, con arrivo a Bilbao, anche questa tappa insidiosa, perché c'è una sorta di circuito da affrontare un paio di volte nel finale, dove c'è la salita di seconda categoria, dove presenta, dove è l'alto del Vivero, che è quello che è stato fatto recentemente al circuito De Geasco, che ha vinto Aiuso, praticamente. Bravissimo, sono 4,5 km al 7%, con punte massime al 12. È una salita medio-breve, diciamo, 4,5 km non è corta, e l'ultimo scolinamento di questa salita sarà a 15 km dal traguardo, più o meno, che è tutta all'incirca discesa. Quindi qua già potrebbe essere una mini-class, di 187 km. Infatti nel 2019 vinse Gilbert a Bilbao, se non mi sbaglio. Attenzione alla tappa 5. Tappa 6, c'è primo vero arrivo in salita, il Picogiano, tappa di 180 km, e la salita non è così difficile. Mulla, non so, te hai qualche curiosità da dire a riguardo? No, no, sinceramente no. Però comunque si farà a qualche distanza, attacco, cioè... Allora, la salita finale sono 12,7 km al 6,5%, con un tratto iniziale, che è quello più duro, di 4 km all'8,5%. Poi c'è anche la salita precedente, con l'Ada de Brenes, 6,3 km all'8,4%. Forse è più difficile la salita precedente, però c'è un po' di fondo valle tra le due, secondo me qua si deciderà, sarà il primo arrivo in salita, squadre fresche, qua si decide tutto sull'ultima salita, ma non prevedo grossi distacchi. Però invece le prime salite fanno sempre qualche danno, per qualcuno. Sì, però tra quelli che poi alla fine si giocheranno alla vuelta, secondo me non ci saranno grossi distacchi. È chiaro, come si dice sempre, il primo arrivo in salita, non si decide chi vince la vuelta, ma si decide chi la perde. Poi, 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 settima tappa, arrivo a Sistierna, 190 km, è una tappa difficile da interpretare, questa è media montagna, però c'è questa salita lunga, diciamo, Io vedo difficile una volata qui, la vedo difficile. È difficile una volata, secondo me potrebbe essere o fuga, o gruppo ristretto, un po' tipo Magnus Cornilsen dell'anno scorso, ecco, un velocista, cioè un velocista, un uomo veloce che regge le salite, e che potrebbe arrivare in un gruppo di 40-50 corridori. La salita ha tutta pendenza media del 5%, è molto lunga, perché sono 19 km abbondanti, però, insomma, il 5% medio non è così difficile, ecco, vedremo, vedremo. Poi andiamo all'ottava tappa, quindi le prime sette le abbiamo già discusse, l'ottava tappa, con arrivo, nuovo arrivo in salita, a Collau Fanquia. È una salita, è la tappa, innanzitutto, è come tutte le tappe che abbiamo fatto venire finora, molto mossa, presenta 5 gpm, 2 di seconda inizialmente, poi 2 di terza, poi c'è un po' di movimento, di up and down, per arrivare poi all'arrivo finale, che sono più di 10 km, e ci sono pendenze anche al 12%, la giornata complessiva avrà più di 3300 metri di slivello, quindi comunque è una tappa che non è paragonabile a quelle del Giro d'Italia, del Tour de France, con 4-5 mila metri di slivello, però sono salite corte che potrebbero far male, la salita finale è tosta, non si va chiaramente, si va a 1.088 metri, quindi non siamo sulle Alpi, però è una salita a 10 km, con punto al 12%. Interessante, dai. Nona tappa, si arriva all'Es-Praes, è un arrivo in salita, nuovo arrivo in salita, però tipico della Vuelta, tappa mossa nuovamente, ci sono 5 gpm, 1 di seconda, 1 di prima, poi 2 di terza nella parte finale, e l'arrivo di prima categoria. Allora, si era già fatto, nella Vuelta del 2018, quando vinse Simon Yates, è lunga 3,8 km, e ha una pendenza media del 13%, e punte al 20. Quindi qua, è una salita tosta, corta, perché sono 3,8 km, però, insomma, a pendenza media del 13%, tanta roba, insomma. Comunque, una prima parte di Vuelta, comunque dura, perché di volate ne abbiamo contate due, sicure, in Olanda, nei Paesi Bassi, quindi, insomma, tanta pianura non c'è, poi saranno salite corte, comunque non, cioè, si sale e si scende, continuamente. Sì, abbiamo contato già tre arrivi in salita, degni di nota, ecco, diciamo così. Poi, siamo alla decima tappa, decima tappa che arriva dopo il secondo giorno di riposo, quindi, si parte subito, con una bella crono di Alicante, 31,1 km, piatta, totalmente piatta, qua si faranno differenze, 31 km, a metà, come piacciono a me, quindi crono abbastanza lunghe, a metà, grande giro, creano dei distacchi importanti, secondo me. Qua, che succede? se faranno differenze, dipende, rispetto a chi, fra gli scalatori, secondo me, non c'è questa grande differenza. Poi, è chiaro che un Evenepul, o un Roglic, anche se penso che non ci sarà, loro, rispetto agli scalatori, possono guadagnare parecchio, però tra gli scalatori, non so quanto. Diciamo che, mullac, correggimi se sbaglio, vedremo anche degli specialisti, qua a giocarsela, perché se si mette la crono, all'ultimo giorno, al più ultimo giorno di un grande giro, è chiaro che gli specialisti, vedi Ganna, al Tour de France passato, è arrivato scarico, rispetto agli uomini di classifica, che sono andati, ad esempio, Vingegaard, meglio di Ganna stesso. Qua, non succede sta roba qua, qua se ci sono gli specialisti, se la vanno a giocare, insieme a Evenepul, chiaramente. Undicesima tappa, l'arrivo è a Cabo de Gata, volata, 193 chilometri, non ci sono GPM, un po' di su e giù, però niente di particolarmente rilevante. Volata numero 3. 3, diciamo, certa 3, poi c'è anche qualche tappa spagnola, che sì, c'ha un po' di mangi e bevi, GPM sul finale, che non abbiamo considerato, quelle sicure sono 3 per ora. Tappa 12, 195,5 chilometri, arrivo a Peña Blancas, è una salita, bella lunghetta, perché sono 20 chilometri, con la pendenza media del 6,5%, con punte che superano l'11%. Nell'edizione 2013, quando vinse, Leopold Koenig. Questa è la classica tappa da vuelta, chiamano Unipuerto, con l'unica salita finale, basta, prima niente, poi se arriva in salita secca, sicuramente qualcuno la pagherà. Tappa 13, ronda a Montiglia, 171 chilometri, tappa senza Gran Premia Montagna, è una strada finale che tende leggermente a salire, però onestamente non credo che, cioè se le squadre insomma sono sempre in forza, e qua si arriva in volata, che dici? Volata numero 4. Ok, molto categorico. A meno di fu, poi può darsi che qualche volta arrivi la fuga, non riescono, però insomma, diciamo che nella prima parte della vuelta, è più probabile che le squadre a questo punto siano ancora fresche, quindi riescano a fare le volate. Tappa 14, arrivo a Sierra della Pandera, 160 chilometri, si arriva in salita, ci sono due GPM nel finale, uno di seconda e uno di prima, però la parte più impegnativa sono i 9 chilometri finali, con una pendenza media del circa 7,5% e tratti costanti al 12, quindi diciamo che la parte finale è quella più tosta, qui come la vedi, è una tappa abbastanza tranquilla nella prima metà. Sempre lo stesso discorso, salita finale, classica della vuelta, nel 2017 vinse Maika. Rai, Rafal Maika, sì, il quinto arrivo in salita, che io ho contato, questo, e comunque, sì, una salita non durissima, però abbastanza impegnativa, dai, però niente di, niente di che, dai. però adesso è lunga, più che altro è, cioè ci sono tre salite lunghe in questa vuelta, che sono sui 18-20 chilometri. Questa è una di quelle, anche se questa però spiana parecchio a metà, divisa in due in pratica. tappa 15, con arrivo a Sierra Nevada, 2510 metri, e qua si inizia a testare la febbre agli atleti che vogliono vincere la vuelta, perché precedentemente c'è già una salita di prima categoria, che ha pendenze del 9-10%, quindi, attenzione, è una salita abbastanza tosta, però la parte, diciamo, succulenta della tappa, è i 22 chilometri, a pendenza media del 6% di Sierra Nevada, non è una salita impossibile, anche perché poi, sul finale, spiana anche leggermente. Però la quota si fa sentire, dai, si farà sentire. Sì, la prima parte di Sierra Nevada è quella dove si fa, di solito, se si può fare selezione, la si fa a Lippe, che sono i primi 7 chilometri, con pendenze medie del 10%. I metri di dislivello supereranno i 4.000 metri. Oltretutto è una tappa corta, molto corta, perché sono... 148 chilometri. Impegnativa questa. Questa impegnativa, qui si decide, secondo me, in parte la vuelta, anche se la salita non è impossibile. Sedicesima tappa, volata, tappa veramente insulsa, con arrivo a Tomares. C'è uno strappettino, ma niente di che, è volata numero... 6? 5. 5. 5? Ok. Poi, tappa 17, Monastero de Tentudia. È una salita, diciamo, un arrivetto in salita di seconda categoria. Io qua prevedo fuga. Io, secondo me, i big qua si daranno poco filo da torcere. Che cosa prevedi qua? Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Non credo che... Sì, non credo che... Non ne vale la pena, diciamo così. Non è neanche un arrivo impegnativo, ecco, diciamo così. Diciottesima tappa, qua si arriva in salita, prima categoria, ci sono tre salite, seconda, poi prima, e l'arrivo in prima categoria. Alto del Pjornal, 191,7 chilometri. Qua è una tappa, non ci sono tantissimi metri di slivello, attenzione, quindi non è una tappa impossibile. Diciamo che... Sono tre versanti diversi della stessa salita. Sì, della stessa salita. Solo negli ultimi due si arriva fino in cima. Sì, è una salita che il primo, il primo, diciamo, versante, il primo attraversa il monastero di Juzze, di 13,5 chilometri al 5%. Il secondo, la valle dei Hervas, con caratteristiche simili. La fine della tappa potrebbe essere il momento ideale per mettere nei guai i leader della generale. Effettivamente è vero, anche se queste salite non sembrano così impegnative da quello che vediamo e leggiamo. Quindi, secondo me, qua non succederà chissà cosa. Salite brevi, non troppo difficili. Però, bello per il pubblico che comunque spostandosi leggermente da una parte dell'altra della salita si vedranno tre volte i corridori passare. La diciannovesima tappa è una tappa corta, 132 chilometri, con una sorta di circuito da ripetere. La salita è la medesima. 14 chilometri, pendenza media 4,5% con un tratto centrale al 10. Questa tappa io non la capisco, sono onesto. Fughe. Tappa da fughe, salite non sono impossibili. Se gli uomini di Cassivica vogliono ribartare la vuelta, questa non è una tappa per farlo. No. Quindi, una tappa così, un po' strana. Interlocutoria, dai, per una fuga prima del finale. Prima del finale, che però è un finale molto amaro. Diciamo, è un finale senza dessert, perché la ventesima tappa è una tappa che per me è orrenda. è la classica tappa che stanno mettendo gli ultimi due o tre anni alla vuelta, che fa sempre casino. L'anno scorso Lopez si è ritirato in una tappa del genere. e lì ribartarono la classifica, e i Yates, insomma. Sì, però, però questa è un po' diversa, c'è tanti fondovalle tra una salita e l'altra, è un po' più lunga. Questa è simile, molto molto simile alla tappa che numero 20 del 2015 ci sono tre colli identici, una serrada e poi un altro e poi l'ultimo, in cui Aru vinse la vuetta, ribartando la classifica su Dumoulin. Quindi, insomma, è sempre lo stesso discorso, no? Si può ribartare tutto lì. Ma infatti è una tappa che così, a livello visivo, a livello altimetrico, me la metti a sei tappe dalla fine, ok, ma me la metti a mia penultima tappa che deve decidere la vuelta, secondo me fa un po' cagare, onestamente. Il problema è che forse loro hanno visto che funziona questa cosa e quindi la ripetono. Però, anche avete date di salite su tutte salite che non superano il 6-6%, 6,5% medio e sono salite tra i 10-12-13 km. Sulla carta è una tappa che fa poca selezione o nulla. Però è chiaro che a fine di un grande giro magari loro hanno visto che è successo tante volte il ribaltone con una tappa del genere. Non lo so. Secondo me ripropongono uno schema vincente. Vedremo, vedremo. Io sono deluso da questa tappa finale. La vuelta non mi dispiace, è un po' la vuelta degli ultimi anni. Poi, chiaramente, parlando della 21esima tappa, c'è l'arrivo a Madrid, altra volata, tappiattone di 100 km, insomma, abbastanza semplice, qui c'è poco da dire. volata sicura, o quasi, però, insomma, il 99% volata e sono 6 volate sicure, ipotetiche, forse ci potrebbe essere una settima o forse una in meno. Comunque, sicuramente, se tutto va come deve andare, è il grande giro con più volate, in teoria. Sì. Ok, però non ci saranno velocisti. Però ci saranno pochi velocisti e quindi sarà dura, almeno ad ora, ci sono pochi velocisti segnati in start list, quindi sarà dura per le squadre tenere le tappe in pugno. Assolutamente, assolutamente. Come valuti questa vuelta, Moulin? Come la valuto? La valuto per quello che è. Sarà sicuramente spettacolare perché è imprevedibile, perché la start list, diciamo, non presenta grandissimi favoriti e quindi partono più o meno tutti alla pari, no? Poi, questo secondo me è un fattore positivo, no? ma per lo spettacolo, secondo me ci sarà spettacolo, ci saranno attacchi, ci saranno emozioni, comunque. Il problema è che non è la prima volta, però quando, mancando i Pirenei, mancano le salite belle. Purtroppo la mia riflessione è questa, perché mancando i Pirenei manca la storia della vuelta. Cioè, è un po' questo il discorso, perché la Sierra Nevada va bene, però poi ci sono tante salite inedite che possono anche, magari faranno più spettacolo, però i nomi mancano, no? Mancano sia un po' nella start list che un po' anche negli arrivi, nelle salite. Sarà in parte una start list simile a quella del Giuse d'Italia, da quello che abbiamo capito diciamo, in questi giorni, però vedremo, vedremo un po' Ivlari Blasov, Roglic se recupera, come recupera, la Bora che non si sa chi schiera, a parte Indley quasi sicuramente, quindi sarà interessante, però probabilmente rivedremo Duello, Carapaz, Landa, Indley, chi lo sa. Il percorso comunque a me non piace, non piace particolarmente e imparagonabile a quello del Giro Tour, cioè è un voto, un voto e mezzo più basso rispetto al Giro e Tour. Sulla carta eh, stiamo parlando sulla carta, perché poi magari in pratica vedremo una vuelta divertente, come spesso è stata. Noi abbiamo dato otto e mezzo, nove al Giro a suo tempo, abbiamo dato nove e mezzo, dieci al Tour come percorso e qui mi sento di dare un sette, sette e mezzo a questa vuelta. Sette e mezzo, dai. Non di più, non di più, c'è una tappa di troppo per i velocisti, forse, c'è, manca un tappone con 4-5-5 milanetti di slivello. Purtroppo la Sierra Nevada che si prestava, purtroppo è una salita unica, finale praticamente, no? E quindi... Diciamo, se la Sierra Nevada fosse stata messa in una tappa più complessa, avrebbe preso uno spessore diverso anche la salita della Sierra Nevada. Comunque, ragazzi, fateci sapere... C'è una questione di gusti anche. Ovviamente, fateci sapere nei commenti cosa vi piace e non vi piace questa volta e che votoli date paragonandola al Giro 2022 e al Tour 2022. Vi ricordo anche che è uscita la maglietta di Tacchetti che abbiamo fatto in collaborazione con Tacchetti che rappresenta Porto de France con la stretta di mano Pogaccia al Wingard. La trovate poi sotto in descrizione nel link. E niente, ciao a tutti e ci si vede alla prossima. Criticate la Vuelta nei commenti oppure criticate noi la stessa cosa. Anzi, mettete e non mi piace. Arrivederci.